Chi ci ha seguito ieri pomeriggio, chi ha seguito la diretta di Fra Pasquale Cianci, lo ha già seguito, lo ha già visto. Questa mattina vogliamo, è con grande piacere che accogliamo nei nostri studi, Fra Giovanni Nappo, il predicatore di questa settimana nel santuario di Padre Pio. Pace e bene Fra Giovanni, frate conventuale del Francescano di Assisi, benvenuto, pace e bene, ci salutiamo proprio con il saluto francescano per eccellenza. Allora appunto, come dicevo, sei il predicatore di questa settimana di Quaresima nel santuario di Padre Pio, posso chiederti se è la prima volta che vieni a San Giovanni Rotondo e se c'è qualcosa che ti lega al Santo di Pietrelcina? Non è la prima volta che in realtà sono qui in questi luoghi, anche se ci sono stati in realtà da pellegrino e ora invece ecco, devo essere onesto e anche grato perché ho l'opportunità di poter colmare dei vuoti sulla storia, la conoscenza di Padre Pio, incontrando persone che l'hanno conosciuto e luoghi che l'hanno visto presente, ecco, che lo testimoniano in qualche modo. Fra Giovanni, raccontaci un po' come la tua vita ha incrociato quella del poverello di Assisi. Sebbene io non sia nativo di Napoli, la mia città, ho vissuto però per un po' di anni e in quel quartiere erano presenti i frati e ho incominciato a frequentare quella realtà. Di lì ho incominciato a conoscere Francesco, ma in realtà la scintilla è nata altrove e grazie a testimoni. Ecco, la mia vocazione è nata per testimonianza, ecco, per contagio in qualche modo, per attrazione. Ecco, molto brevemente, ecco, un po' la mia storia vocazionale se volete. Ed è questa, ecco, partecipando una volta ad un raduno di ragazzi, di giovani, ho avuto la possibilità di poter incontrare un ragazzo della mia stessa età, su per giù, che mi aveva colpito, perché a differenza di tanti altri che avevo conosciuto e che frequentavo fino a quel momento, aveva un qualcosa in più, che mi curiosiva, che mi affascinava e che mi piaceva. Non riuscivo a capire bene di cosa si trattasse. L'unica cosa che sapevo è che io volevo avere quella stessa cosa, perché mi mancava, perché la desideravo e perché pensavo, percepivo, che era quella che potesse dare un senso un po' a quanto facevo fino ad allora, tante esperienze, tante cose. E fino a quando, finito ecco quel raduno, quel ragazzo, ecco, nel salutare si è presentato, dicendo appunto che era in cammino e in preparazione poi ad entrare in convento. Quella cosa lì è che mi ha lasciato un po' interdetto, ritornando a casa, ripensando un po' all'accaduto, mi sono chiesto se forse non poteva essere anche quella lì, per me è una possibilità. Non è stato così immediato, nemmeno così facile. Ci sono voluti anni, poi dopo, per poter riuscire a capire meglio come poter realizzare tutto questo. Però ecco, quello che mi piace è che è avvenuto grazie a testimonianze e di testimonianze nella mia vita ne ho avuti tanti. E sei arrivato ad Assisi poi alla fine, insomma. E sono arrivato ad Assisi, il mio cammino di formazione è iniziato là e ho vissuto lì gli anni iniziali appunto di preparazione e poi ecco, dopo una breve parentesi, vissuto a Benevento, ecco, lì sono venuto a contatto con Padre Pio e sono ritornato in Assisi dove tuttora vivo e presto servizio. Beh, Assisi che è la città per eccellenza del tessimone, per eccellenza del francescanesimo, che è il poverello d'Assisi. Fra Giovanni, siamo in cammino verso il giubileo del 2025, ma la grande famiglia francescana sta celebrando dei centenari importanti. Abbiamo iniziato l'anno scorso con la regola francescana e Greccio. Quest'anno si celebra un importante centenario, quello dell'impressione delle stimate di San Francesco. Poi andiamo verso quello dedicato al cantico delle creature e l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Che cosa ci offrono queste importanti occasioni, questi centenari, neanche a farlo apposta uno dietro l'altro, che sembra quasi essere, non credo che sia un caso, ma forse è una dioincidenza. Ecco, io sono arrivato a questa conclusione, che questo grande centenario francescano dà la possibilità di poter riscoprire una nuova dimensione di santità, come una realtà a portata di mano, non tanto lontano, qualcosa che è possibile immaginare e anche desiderare. La santità di uomini come Padre Pio e come Francesco in questo caso, penso che sta nel fatto di essere stati autenticamente uomini, persone, umane. L'hanno vissuta in pienezza la loro umanità e questo affascina. Tante persone che arrivano in Assissi portano dentro un desiderio. Ho avuto modo di poterlo constatare nei tanti anni di presenza. Ed è quello di voler vedere Dio. A volte non ne sono coscienti, per niente, proprio inconsapevolmente, il desiderio di poter fare esperienza di assoluto, di infinito, di divino. E questo lo chiedono a Francesco, per un semplice motivo. Francesco, attraverso la sua esperienza di vita, semplice, diretta, pienamente umana, ha fatto vedere, ha mostrato, ha rivelato. E penso che questo sia anche la grandezza dei grandi santi, come anche Padre Pio, persone che hanno vissuto appieno la loro umanità. A Grecia hanno voluto vedere, ha voluto vedere come e cosa significa per Dio diventare come noi. Nell'esperienza di Laverna, quest'anno appunto con le stimate, Francesco che vuole fare esperienza di Dio con la carne, ecco, lasciarsi toccare, raggiungere, appunto, anche fisicamente da Dio. E poi il Cantico delle creature, nel 2025, appunto, ci siamo. Francesco che loda, perché vede, percepisce le tracce della presenza di Dio ovunque, in ogni creatura. E finalmente, ecco, poi il giorno, l'anno, l'anno della morte, l'anniversario della morte. Francesco che loda al Signore anche fino all'ultimo momento. Con un episodio che è davvero di una grande squisitezza. Prima di morire, Francesco si fa leggere il passo del Vangelo e poi vuole condividere con i suoi un ultimo pasto. Benedice il pane, un pezzettino ad ogni fratelli presente e si raccomanda che tutti lo possano mangiare. Ecco, davvero, persone squisitamente umane. A me di Francesco e di Assisi, da cui purtroppo manco da tantissimo tempo, faccio una confessione in diretta televisiva, colpisce l'ecumenicità, Fra Giovanni, perché quando si va da Assisi si trovano persone di tutte le nazionalità e probabilmente il fatto che ci sia questa figura straordinaria di Francesco d'Assisi sia un po' il collante di tante situazioni, di tante esperienze di vita, anche di tante religioni che poi confluiscono appunto in questa città. Così come mi stupisce molto il fatto che qualsiasi argomento sociale, ma anche economico, per tornare a un po' i tuoi ambiti, sia facilmente ricollegabile a Francesco. Tu questo come te lo spieghi? Credo che, come dire, l'unicità, l'originalità del messaggio francescano e dell'esperienza di Francesco sta nel fatto di essere transculturale. Una persona che riesce attraverso il suo linguaggio e quindi la sua vita in realtà a raggiungere le persone di ogni cultura, ogni tradizione e anche di ogni confessione di fede, perché va all'essenziale, riesce a cogliere quello che è il nucleo centrale. C'è una domanda che abita ogni persona, una sorta di archetipo che è possibile cogliere, il desiderio dell'uomo di poter ricongiungersi ad un principio creatore. E questo desiderio rimane, permane e poi si esprime, si manifesta in tantissimi modi attraverso strumenti e modalità che sono quelli culturali, quelli legati alla fede. E Francesco riesce a parlare, a comunicare, a rimanere in dialogo a questo livello, base, essenziale. A proposito di questa parola essenziale, San Francesco, il povere Lodassisi, Francesco si è spogliato dell'essenziale, è ritornato proprio all'origine. E quello che dovremmo fare noi, insomma, un po' che la quaresima forse ci indica la strada da percorrere è questo, tornare all'essenziale. Ma come possiamo fare questo? Come possiamo fare ciò? Io ti riporto la mia esperienza, Paola. Sì. Ho avuto la possibilità di poter fare delle esperienze in luoghi di estrema povertà, non qui in Italia, all'estero, con l'opportunità, la grazia di poter entrare a contatto con povertà umane e altri tipi di povertà. E io lì ho imparato, è proprio questo il termine esatto, ho imparato cosa vuol dire vivere di poco. Imparare che le cose essenziali nella vita in realtà sono proprio poche, 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 grazie al cielo, quindi non sono tante. Forse ecco, da qui il suggerimento, ecco, la proposta, l'idea, se vuoi, è di provare a chiedersi se quello che ho a disposizione, se quello che faccio mi fa crescere nell'unione con Dio, nell'unione con gli altri ed è rispettoso anche della mia stessa persona. E magari qui scoprire che in fondo sono poche le cose che contano, quelle che mi permettono di poter vivere in questo modo riconciliato con Dio, con gli altri e con me stesso. Ed è un messaggio importante quello che viene in preparazione alla Pasqua. Allora Fra Giovanni, tu sarai qui a San Giovanni Rotondo fino a sabato, giusto? Esatto, sì. Quindi, ecco... Fino a domani. Esatto. Siamo arrivati. Fino a sabato, domani, esatto. Noi con i giorni. Ormai stiamo facendo una confusione assoluta con i giorni. E quindi avremo modo di ascoltare ancora, diciamo, qualche riflessione nelle ultime celebrazioni che presiederai. Ovviamente stasera c'è anche la Via Crucis, quindi sono ore importanti. Comunque, chi vuole mettersi in contatto con te può farlo, poi magari anche raggiungendoti ad Assisi, volendo. Volentieri. E ti affidiamo tutte le preghiere e le intenzioni dei nostri amici telespettatori da portare al poverello d'Assisi, da portare a San Francesco. Quindi da San Giovanni Rotondo, dal figlio, come padre Pio si considerava figlio, di San Francesco, al padre, a Francesco d'Assisi. Grazie, Fra Giovanni Nappo, per essere stato con noi. E buon cammino di Quaresima. Anche per voi, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie ancora Fra Giovanni. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e subito dopo la pagina di storia. Grazie.